eccoci qui buonasera 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 angelo boccato buonasera i già bascego benvenuti grazie di essere qui con noi stasera benvenuti veramente vi faccio subito un meraviglioso brindisi perché dobbiamo brindare al fatto che siamo qua che siamo insieme che possiamo parlare anche se attraverso un computer che però tante volte ci ha dato anche delle possibilità di più incontri che non avremmo avuto non sempre è possibile no per le persone arrivare a londra o così per lui questo è diciamo ci ha aiutato a avere tante persone allora benvenuti ragazzi io vi ringrazio ringrazio tantissimo angelo di avere proposto questa questa serata che io ho accettato con gioia la conoscevo già ai jabba dai tempi del del film quando venne a presentare mi sembra fossero due anni fa ormai ho perso il conto credo siano due anni fa 2018 due anni fa dove venne a presentare aduassia in italiano che con la sua traduzione in inglese e mi ricordo una bellissima una bellissima serata per cui sono felice di averla qui con il suo nuovo libro la linea del colore e prima di lasciare a voi due il campo per questa chiacchierata che faremo sul libro io avevo piacere a leggere come faccio di solito che mi devo perché io adoro leggere veramente una cosa mi piace tantissimo fa per cui è a me piace leggere ad alta voce sono cominciamo con roma 1887 una piazza in tumulto il primo a dare la notizia della strage fu le giornale ad essenziale petrobur seguito a breve distanza dal times di londra poche scarpe informazioni qualche parola d'occasione il buio di un lutto inaspettato le notizie provenivano dall'africa orientale e furono accolte da roma con uno sgomento di ora in ora più crescente erano morti degli italiani erano morti in battaglia o forse in un agguato in questo nelle giornale nel times erano stati esaurienti l'unica certezza era che degli italiani erano morti lontano da casa ed erano morti molto molto male 100 cadaveri sul campo di battaglia 200 cadaveri poi 300 no 500 500 cadaveri italiani cifra tonda 500 morti in africa orientale ma come erano morti che ci facevano raggiù in africa orientale fra le palme baobab tra i miraggi e le sirene ed ecco che all'improvviso un nome scoppiò fra le pagine di quei giornali europei il nome era dogali un nome un nome che quasi nessuno in italia aveva sentito prima di quel funesto avvenimento e così inizia la linea del colore noi adesso vi salutiamo e ci rivediamo dopo grazie a dopo a dopo i job è un grandissimo piacere poter parlare con te della linea del colore è un romanzo che mi è piaciuto veramente tantissimo veramente una fresca incredibile vorrei appunto approfittare di quello che della prima pagina letta da ornella la prima pagina del tuo libro per parlare proprio di questo luogo questo è fondamentale questo è il tuo secondo romanzo storico dopo adua e questo caso è un romanzo di piri un periodo una periodo nove diciamo da un certo punto di vista perché che in questi tempi di bridgerton è molto diciamo sul sul pezzo se così possiamo dire quindi prima di bridgerton verrà hai anticipato hai anticipato però dico adesso ancora più adesso ancora più cattura ancora di più l'attenzione perché hai diciamo hai anticipato le tappe diciamo in da un certo punto di vista e volevo quindi chiederti proprio di partire da piazza dei cinquecento a stazione termini di roma e anche da dove parte appunto il tuo romanzo anche che cosa rappresenta come e appunto in che come ti sei trovata con questa piazza della diciamo la genesi del tuo romanzo sostanzialmente allora io poi se riesco poi a ritrovare il file magari vi faccio vedere anche delle immagini vediamo se riesco però tecnicamente ehm adua finisce non spoilerò audua perché questa cosa la posso dire finisce a piazza dei cinquecento a termini che è una la piazza della stazione della città di roma e quei cinquecento sono cinquecento morti e in africa orientale come abbiamo sentito appunto dall'incipito del del romanzo ed è una storia che si sa veramente poco perché quando si parla di colonialismo in generale si parla di rimozione coloniale perché la gente non sa quali sono state le colonie a me succede sempre no eh tua madre dove è nata Mugadiscio quando vado a a prescriverle le analisi no e loro dicono Mugadiscio dove ecco se un italiano ti dice Mugadiscio dove o Asmara dove c'è un problema perché c'è c'è stata una lunga storia no e e quindi la quello che volevo far capire e lo sto facendo da parecchi libri Roma negata appunto adua e questo che non è che non è però di argomento coloniale ha solo questo grande incipito coloniale che il colonialismo non è solo legato al periodo fascista cioè non è solo Mussolini o Graziani o Badoglio ma è cominciato molto prima a metà ottocento e che l'Italia è entrata come tutte le potenze europee in qualche modo a gamba tesa su sulla dignità e la vita degli africani prendendoli prelevandoli territori e vita soprattutto e uno non pensa no l'Italia che ha subito una sorta di colonialismo era tutta spezzettata divisa una delle prime cose che fa nell'Italia postunitaria è entrare in questo scramble for Africa cioè prendersi un pezzo di Africa e quindi questa cosa volevo farla poi chiaramente l'incipit il mio libro parla di tutt'altro parla di una donna Alfano Brown afroamericana che decide di andare dagli Stati Uniti all'Italia uno dice mamma mia una cosa strana in realtà no perché c'erano delle viaggiatrici ottocentesche nere io poi personalmente mi sono ispirata a due viaggiatrici una era Edmonia Lewis che in Italia diventerà una scultrice lo era già negli Stati Uniti e però diciamo che amplia la sua attività e l'altra è l'abolizionista attivista Sarah Parker Raymond che in Italia diventerà poi ostetrica vivrà sia a Firenze che a Roma quindi queste presenze nere ottocentesche mi hanno molto interessato e però volevo in qualche modo il mio personaggio trova nell'Italia quasi una salvezza una salvezza particolare poi ne parleremo però io comincio la storia quando il rapporto tra l'Italia e la mia protagonista si incrina un po' quando entra Gambatese il coloniale cioè quello da cui lei fuggiva no la schiavitù la paura lei non è una donna non è una stessa schiavizzata ma in qualche modo i suoi avvisi ma in generale è una nera libera però la schiavitù incombe sui neri liberi perché potevi perdere la libertà in un nanosecondo no e quindi tutta quella storia no e li ritorna in Italia cioè lei la vede in Italia e quasi non si capacita no e quindi volevo far vedere quando il rapporto tra la mia personaggia e l'Italia comincia a inclinarsi poi vado indietro c'è il mio romanzo comincia nel 1887 poi va a ritroso e riinizia nel 1859 per arrivare al 1870 poi ti dirò Angelo io sono impazzita ci sono tante cose io ho parlato spesso di questo libro ma la cosa che mi ha molto cioè oltre la scrittura la lingua i personaggi cioè una cosa che mi ha molto impegnato infatti Bridgerton lì hanno toppato alla grande a me è piaciuto Bridgerton però i costumi sono irreali completamente reali no e io una delle cose su cui ho perso credo più tempo è capire come la moda cambiava tra 1865 1870 fra le crinoline la mussola eccetera quindi non è facile scrivere un romanzo storico perché a un certo punto ti fai delle domande anche scomode tipo come si vestivano quando arrivavano le mestruazioni cosa succedeva cioè e mi sono fatta tante di quelle domande e oltre sui macro temi anche sui dettagli quindi devo dire che è stato un lavoro veramente tosto e chissà se il prossimo sarà un romanzo storico probabilmente sì ma una una storia sicuramente diversa come è stata da un certo punto di vista un po' una personaggio straordinaria devo dirlo che amalgama un sala parker raymond ed edmonia lewis volevo chiederti come come diciamo specificamente come sono come come è strutturato un po questo loro modo di unirsi considerando poi che erano a roma nello stesso trovano roma nello stesso periodo ok e no in realtà io sono rimasta veramente affascinata e come le ho scoperte come come ho riuscito a fare questa amalgama è un po il romanzo no e io io vorrei provare angelo a far vedere in queste due donne se riesco io non so se posso fare share screen si proviamo perché sarebbe anche utile e perché queste donne vanno anche viste secondo me e lo vedete lo schermo momento no aspetta a sì sì adesso lo vedo vedo sì lo vedete allora vi faccio vedere soltanto queste due donne poi mi faccio vedere anche altre cose ecco lei è edmonia luis non lo vedo più io almeno non lo vedete più ho visto un attimo adesso vabbè lasciamo perdere non vedete lo schermo non riesco a farlo vedere comunque sta di fatto che edmonia luis è qui è venuta a fare lo scultrice e la cosa che mi ha colpito sia in sara che in edmonia è quella quella cosa che poi trovi in tutte le biografie degli afroamericani di ieri e di oggi che quella la paura di perdere il corpo c'è un momento in cui c'è quella consapevolezza che può finire dentro una violenza cieca e feroce e questo è successo a tutte e due le donne e edmonia luis forse è stata vittima di una violenza è stata anche pestata insomma c'è una storia veramente brutta e sara sara parker in qualche modo è stata era andata a sentire l'opera ma siccome no donizzetti soprattutto era un'opera di donizzetti a un certo punto li dicono no tu nera qui non ci puoi stare e poi niente l'hanno presa l'hanno buttata giù dalle scale ed ecco che quella cosa che poi ci racconta anche james baldwin loro due decidono di andare via per salvare la pelle ma per salvare proprio la loro il loro corpo e un po come fa james baldwin in un certo senso lui si occuperà per tutta la vita di stati uniti però appunto decide un esilio quasi no io io quello di james baldwin l'ho sentito sempre come un esilio da un'america feroce contro il corpo nero e noi l'abbiamo visto purtroppo ancora una volta questa con l'anno scorso e ormai l'anno scorso a maggio dell'anno scorso quando è stato ucciso george floyd no tutte le proteste che sono avvenute penso a trevin martin penso a eric garner penso a brione taylor poi è chiaro io non ho fatto formaggio afro americano perché non sono afro americana sono una donna somera italiana o afro italiana decidete voi come potete chiamarci perché è molto difficile no ormai ci danno 20.000 etichette però ecco sono una donna europea di fatto e africana quindi quello che mi importava che era importante per me era partire dagli stati uniti perché io come come donna sempre come donna europea africana sempre guardato agli stati uniti e come un faro perché effettivamente loro sono stati una diciamo un faro di lotta di resistenza di resilienza e però rendendomi conto di essere comunque qualcun altro no e quindi la mia personaggia effettivamente è afro americana nativa americana ma per me è una donna che si scopre nel viaggio no è un'identità che si costruisce in questo tempo sospeso del viaggio e soprattutto la cosa che volevo che illuminasse e l'italia in qualche modo no perché l'italia è abbastanza centrale in questo libro ma c'è da una parte l'italia reale poi da un'altra parte c'è l'italia immaginata che era quella dei viaggiatori degli aristocratici del grand tour in qualche modo no e questa italia che lei la fanù conosce prima dai libri quelli famosi la corinna eccetera eccetera di madame de stelle o altro a casa guidi windows o altri testi del genere e poi quando arriva in italia però scopre un'altra italia che non l'avevano mai raccontato questi libri che per me è la black italy queste tracce no di presenze nere che si trovano nelle nostre città nelle nostre nei nostri paesi faisini volevo dire ma infatti il viaggio appunto come sottolineavi è centrale nella nel romanzo e anche appunto la differenza tra viaggio aspettative e realtà e diciamo stratificazione di realtà come come indicavi prima quindi vorrei chiederti appunto del di questa idea una cosa che ho trovato molto affascinante l'idea della rotta inversa dagli stati uniti all'italia o comunque dall'europa e soprattutto nella letteratura nel cinema generalmente quando vediamo spostamenti in quel periodo storico non immaginiamo mai persone nero afrodiscendenti a compiere quella traversata da un certo punto di peraltro poi si ricollega poi alla traversata che gli antenati di la fano compirono come punto rimarche anche nel libro quindi io vorrei anche chiederti dell'intersezione dell'italia tra nelle due sessioni temporali quindi quella appunto di la fano e quindi il viaggio di la fano e anche il viaggio di 20 e anche l'importanza di del viaggio legale che è un tema del quale tu hai sottolineato numerose volte ehm per come una soluzione alla ehm ai 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 drammi che che al drammi che a cui assistiamo regolarmente dalla rotta mediterranea soprattutto ma anche la rotta balcanica allora questa è una domandona in due parti allora cerco di rispondere alla prima parte e alla seconda poi sul viaggio legale che è qualcosa che per me è centrale in questo libro allora mh è chiaro che non è che c'erano chissà quanti no afrodiscendenti che viaggiavano però le presenze nere in europa sono tante e non a caso è uscito appena adesso non so da pochi mesi un libro lì in inghilterra proprio e in gran bretagna eh che si intitola afro europeans the untold history di olivette hotel ed è una storica appunto dell'università di bristol e in queste presenze nere effettivamente ci sono state ci sono state movimenti eh ma non soltanto movimenti schiavili come soltanto no uno può immaginare movimenti veramente di diverse persone di diversi ambiti e quello che a me colpiva proprio di queste presenti ottocentesche appunto c'era attori shakespeariani cioè c'è veramente di tutto e mh è stato un momento eh che è stato appunto eh Frederick Douglass il nostro famoso Frederick Douglass che a un certo punto viene a Roma con la moglie e eh viene portato in giro a Roma da Edmonia Lewis e poi lui va a trovare Sarah Parker cioè era una rete di gente che comunque si conosceva se uno va io io poi ho fatto molti sopralluoghi per fare questo romanzo questo romanzo è un romanzo per fortuna non c'era il covid perché ho veramente ho veramente visto i luoghi ho riflettuto sui luoghi ecco se uno va e c'è nel nel libro questo luogo il cimitero degli inglesi a Firenze che poi si chiama cimiteri degli inglesi però era erano sì non erano solo inglesi le persone che stavano appunto nel cimitero ma di varie nazionalità e poi comunque erano soprattutto svizzere ancora ci sono le suore svizzere lì e poi ho scoperto anche una storia molto interessante del cimitero oggi perché praticamente sono la comunità rom di Firenze che si prende cura di questo di questo cimitero che è stato a un certo punto abbandonato però ecco in quel cimitero appena si entra c'è una targa Frederick Douglass tipo è stato qui quindi è un qualcosa di veramente no importante che ritracciare ritrovare queste storie e quello che volevo fare io con la mia la fan Brown e anche con questo suo amato Frederick che non è Frederick Douglass però un po' ci assomiglia è effettivamente era questo cioè mettere al centro questi corpi neri in movimento nel viaggio e anche nell'amore ecco perché una cosa che una delle cose che a cui tenevo di più è far vedere una storia di due e neri d'amore perché non è una cosa che vedi spesso spesso no cioè molto spesso vedi coppie miste che va benissimo però la coppia appunto afrodiscendente totalmente afrodiscendente è una cosa che si vede poco quindi io ci tenevo molto a fare questo anche e è chiaro che però il tema centrale di questo libro per me sono vari temi e uno è l'Italia poi ne parleremo l'altro è il viaggio perché il viaggio in qualche modo permette a questo viaggio di la fanu Brown l'ottocento permette di illuminare il viaggio oggi dei migranti e noi chiamiamo migranti persone che hanno sogni hanno voglia di vedere fare e lì in qualche modo incaselliamo purtroppo in ambiti molto precisi migranti per esempio la parola stessa non ci fa capire le persone quanti anni hanno che sogni hanno che nomi hanno ho sempre trovato una parola che spersonalizza molto no e quello che io cercavo di fare con questo libro è creare l'empatia ed ecco che arriva l'altro personaggio centrale di questo libro che è Lela Lela è una curatrice d'arte è in qualche modo una metafora delle cosiddette una parola che odio però per capirci è seconde generazioni figli di migranti però non bambini e ragazzi di che appunto quando si parla di figli di migranti si pensa sempre che sono giovanissimi ma una donna di quasi 50 anni come posso essere io ma come può essere la mia amica Lela del Fussi siamo tanti di una generazione cioè da qui qui in Italia siamo da tanto no non siamo un fenomeno nuovo perché la nostra realtà ci dice già che non siamo un fenomeno nuovo no questo volevo sottolinearlo quindi la Lela è in qualche modo una sorta di identikit di una generazione anagrafica e una generazione di figli di migranti questo intendevo e lei è una curatrice d'arte che studia la fanu brown ma mentre studia la fanu brown arriva cioè arriva lì arriva la notizia e degli sms su whatsapp di di sua cugina che le dice ho passato il confine è cominciato il viaggio no e quello che insomma lo si dice tarib no il viaggio verso verso l'Europa e da lì no cioè questi due viaggi quasi si rispecchiano no di un viaggio appunto possibile nella difficoltà di la fanu perché la fanu appunto per fare il viaggio deve pregare queste abolizioniste bianche terrificanti io mi sono mi sono molto divertita a costruirle perché poi sono terrificanti ma hanno anche dei lati umani insomma sono personaggi complessi e però il viaggio negato dei migranti oggi no io mi ricordo quando appunto la mia famiglia veniva qui con quando aveva ancora il passaporto somolo venivano con l'aereo e mio fratello studiava a Praga poi andava in Somalia cioè e tutto quel passaporto somolo era possibile poi cade il muro di Berlino e noi pensiamo tutti arriva un nuovo mondo un mondo di pace e invece arrivano altri muri muri messi nel Mediterraneo muri messi tra Stati Uniti e Messico quindi volevo far vedere come i passaporti che prima avevano un valore come quello somolo improvvisamente non hanno più valore quindi tu diventi un diciamo un cittadino del mondo di serie D serie C serie F non lo so e non è soltanto la diversità di colori di pelle che entra in gioco in questa complessità ma la differenza di passaporti perché Leila è nera Binti è nera teoricamente avrebbero gli stessi problemi no una è nata in Europa e ha il passaporto italiano può viaggiare ovunque l'altra ha il passaporto somolo per viaggiare si deve far violentare deve pagare i trafficanti quindi abbiamo creato un mondo di diseguaglianze questo volevo far vedere lo vediamo anche nelle rotte balcaniche io non riesco più a parlare cioè perché quando guardo quello che succede nelle frontiere ti fa veramente male l'altro giorno ho visto un reportage in tv e vedevo questi giovani che potevano andare in discoteca che potevano divertirsi che potevano studiare invece stavano lì al freddo cioè una situazione di sporcizia allora perché non creiamo dei canali legali perché questo permetterebbe al viaggio di non essere solo viaggio di migrazione noi stiamo costringendo un sacco di gente alla migrazione forzata spingendoli in avanti quando invece potremmo vedere è chiaro che non è facile però potremmo vedere tutta una gamma di viaggi quindi per me era un tema centrale perché il viaggio per eccellenza del Grand Tour è il viaggio appunto di oggi della migrazione di due però donne nere torniamo un attimo alla linea temporale principale diciamo nel tuo romanzo quella di Afanou ricollegandomi a quello che dicevi chiaramente sulle seconde generazioni che appunto come sottolineavi sono parte dell'Italia da molto più tempo rispetto a quanto diciamo la narrativa generale possa far pensare l'opinione pubblica nel nostro paese in generale ci terrei a ricordare a segnalare un altro degli elementi che il viaggio di Afanou è comunque molto accidentato oltre appunto al dover pregare come ricordare e come sottolineavi queste abolizioniste che sono un po' che ho trovato molto interessanti come personaggi anche nella loro evoluzione il fatto è che sono non sono diciamo personaggi unidimensionali ma inizialmente ricalcano molto la cosiddetta etichetta del white savior diciamo da un certo punto di vista i salvatori o in questo caso le salvatrici bianche di Afanou che però esprimono una certa diciamo che la vedono che la vedono più come una come una una possibilità di prestigio piuttosto che una persona alla sua interezza ricollegandosi alla scomparsa del del corpo dell'esperienza nera e quando però Afanou, dato che siamo a Londra, resta bloccata spoiler un attimo, cerco di andare troppo nei dettagli purtroppo è centrale perché purtroppo mi spiace era molto centrale per quello che volevo chiedere è difficile pensare, è difficile non collegare quanto le accade rispetto a quanto continua ad accadere in Italia ai figli di seconda e terza generazione ormai che vengono spesso rappresentati e rappresentate come miganti sempre ricordo questa intervista alla ministra dell'interno l'amorgese che parlava di stranieri di seconda e terza generazione il non essere cittadini che quindi anche lì poi centrale nel movimento nello spostamento dagli Stati Uniti all'Europa cosa puoi dirci su questo fronte? scusate, vini spoiler spoileraggio no, no, è che a me interessava veramente la complessità è chiaro che questo libro non parla di cittadinanza però un po' l'eco della cittadinanza c'è in qualche scena non dico quale però insomma è chiaro che appartenere si spensa sempre che le nazioni abbiano un colore solo e una religione sola quando sono sempre state complesse da quando sono nate nel 600 poi la nazione lo stato nazione è qualcosa di veramente molto recente e non è detto che durerà per sempre potrebbe anche finire e quindi l'appartenenza è qualcosa che uno crea giorno per giorno e quello che io volevo far vedere anche non so se rispondo alla tua domanda però per ritornare al libro la Fanu in qualche modo cerca un'appartenenza nell'arte perché questo è il diciamo il suo un po' anche come ho fatto io come hanno fatto altre persone cioè quello che ci caratterizza più che lo stato nazione a volte è quello che facciamo perché poi lo stato nazione per un'italiana è molto difficile da dire infatti io qui in questo libro c'è anche un personaggio che mi piace molto Ulisse Barbieri perché volevo far vedere anche non soltanto l'Italia coloniale ma l'Italia anticoloniale perché è esistita però ecco per un italiano l'Italia a volte è un concetto molto lontano e di solito a Roma sei romano a volte sei del tuo quartiere io una volta un signore mi aveva detto ma tu dove sei nata vabbè io sono nata a San Lorenzo però poi sono ho vissuto molto diciamo a Roma Nord e poi sono ritornata diciamo sulla Palestina e quella cosa che lui mi diceva però tu sei cresciuta a Prima Valle non vale non sei romana e per lui l'appartenenza non era nero bianco era Prima Valle e testaccio per lui testaccio era meglio quindi in qualche modo l'identità italiana è veramente fatta di galassie è qualcosa che tutti noi non soltanto noi afrodiscendenti o noi figli di migranti dobbiamo in qualche modo mettere in gioco giorno per giorno ma tutti tutti in questo paese l'abbiamo visto con la pandemia e io vorrei leggere proprio un pezzettino sull'Italia perché è però è molto ottocentesco però è quando appunto la Fanu scopre l'Italia attraverso la sua cultura allora fu tra i 17 e i 18 anni ovvero tra il 1859 e il 1860 in quell'anno magico in cui fu allieva di Lizzie Benson che la Fanu Brown scoprì l'Italia l'Italia era qualcosa che la Fanu stringeva tra le sue piccoli grandi mani ansiosi di futuro fu Lizzie naturalmente a consigliarle delle letture a cui presto la Fanu divenne devota erano libri corposi suadenti dalla scrittura fitta a tratti morbosa l'Italia era tutto un castello in fiamme un lago tenebroso una masnada di monaci lussuriosi l'Italia era un mistero denso fatto di camere nascoste trappole disseminate lunghi sentieri per ingannare i giovani cavalieri armati solo dai loro cuori impavidi era un mare impetuoso l'Italia un mare di demoni dal viso leggiadro mostri che illudevano il prossimo con un sorriso prima di divorarlo in pieno sole e poi continua perché questa è una descrizione lunga però ecco a un certo punto lei quando dice l'Italia è appunto è un pezzo che ogni tanto lo rileggo anch'io perché non so come mi sia venuto dal cuore evidentemente e lei dice che era la secca che bloccava le navi poi dice era la face di un lupo affamato e poi dice era Circe era Scilli era Carridi la Dolce Sibilla le Sabine oltraggiate era Beatrice la Disdegnosa Caterina la Santa Artemisia la Coraggiosa Sofonisba la Talentuosa eccetera eccetera quindi io ho voluto in questo pezzo creare anche una genealogia femminile italiana perché questo ci tenevo tanto ho detto qui si parla sempre di uomini che va bene li vogliamo tanto bene perché insomma ci hanno dato tanto Dante, Boccaccio Petrarca Manzoni non so Calvino tutti gli scrittori che mi vengono in mente però Michelangelo Raffaello Caravaggio però ci sono state le donne la cultura delle donne in questo paese quindi c'è stata Sofonisba Guissola Artemisia Gentileschi io penso a quanto mi ha influenzato nella scrittura Elsa Morante o Natalia Gainsbourg quindi in qualche modo volevo in qualche modo anche portare un'Italia femminile cioè comunque lei si innamora anche di questa parte d'Italia in un certo senso io in questo libro volevo far vedere come noi figli di migranti critichiamo molto questo paese perché insomma questo paese è stato tremendo con noi ha fatto delle cose tremende però li vogliamo anche bene cioè questa cosa io la rivendico e il mio criticarlo il mio stare lì è perché lì voglio bene se no non lo farei lasciare perdere quindi per me era molto importante scavare nella storia di questo paese e far vedere che c'è un altro lato come anche scavare la storia del mio altro paese che è la Somalia che in questo questo libro esce fuori con convinti con la sua tenacia perché io volevo proprio descrivere la tenacia dei giovani somali perché vengono sempre descritti male come guerra fondai terroristi eccetera no sono persone piene di sogni lo si vede banalmente da Instagram che fanno cose vogliono un paese in pace insomma tante cose assolutamente e pensavo appunto a quello che appunto dicevi del personaggio anche l'importanza della rappresentazione femminile perché non è solo oltre appunto alla generale rappresentazione in romanzi o comunque in opere cinematografiche film di personaggi neri o affrodiscendenti sono sempre o comparse o come parte di diciamo servitù o simili e i personaggi femminili ancora più oscolati quindi è veramente incredibile anche come è strutturato la potenza di questa della di un personaggio della femminilità di Gaffanou e anche peraltro un personaggio che come segnalavi come indicavi prima si porta dietro delle delle ferite diciamo da un certo punto da un certo punto di vista alla parola di Binti che tra l'altro si ricollega è qualcosa che sta emergendo molto anche sul fronte emerso anche sul fronte televisivo qui nel Reunito con la grandissima serie di Michela Coel al May Destroy lo scorso anno su queste su queste tematiche quindi vorrei chiederti anche un po' di più sulla diciamo da dove come oltre chiaramente i personaggi che abbiamo sottolineato come la struttura di la struttura di Lafanou da un certo punto di vista in come strutturata con questa con la sua storia e anche con il fatto che appunto con l'essere per metà nera e metà nativa americana si ricollega peraltro anche a figure che hanno avuto un ruolo particolare anche se dimenticato nella storia statunitense come Chris Pussatticus che fu il primo la prima vittima della della guerra di indipendenza statunitense americana contro gli inglesi io diciamo che lavoro ho lavorato da tre libri il prossimo sarà sulla risurrezione perché ho già deciso questo e volevo fare una cosa sulla violenza e su come i corpi riescono a resistere alla violenza coloniale che poi è quel cappello grosso e come i corpi resistono a questa violenza che viene perpetrata secolo dopo secolo giorno dopo giorno mese dopo mese sul loro corpo questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito come non so se avete presente le silhouette di Kara Walker come Kara Walker fa vedere con queste silhouette che sembrano quasi immaginifiche fantastiche una violenza feroce della schiavitù e della piantagione ed è qualcosa che le strutture coloniali sono strutture violente anche quando poi la violenza non è solo fisica perché ti costringono a essere suddito a tradire infatti Adua era tutto sul tradimento della propria della propria gente del proprio popolo poi io ho sempre un po' riflettuto su questo perché comunque biograficamente mio nonno è stato interprete di Rodolfo Graziani io questa cosa è sempre stata comunque un tarlo cioè come come una persona poi deve subire anche questo cioè sei complice in un certo senso ma stai subendo allo stesso momento quindi per me era molto importante ed è una cosa che ho seguito da oltre Babilonia a Adua a Roma Negata e fino ad arrivare appunto alla linea del colore è chiaro che poi a me interessa la risurrezione di più cioè come poi le persone riescono a emergere e la Fanu riesce ad emergere attraverso l'arte lei è una pittrice e quindi come dicevo prima l'arte le dà in qualche modo un modo per sopravvivere agli eventi no? e poi anche l'osservazione cioè quando vede per esempio un punto centrale di questo romanzo è la fontana di Marino che io invito tutti ad andarci un giorno dopo il covid cioè post covid o comunque da vaccinati perché merita è una fontana dove è stata borsata lì insomma è stata fatta in onore della battaglia di Lepanto poi è stata ricostruita nel secondo dopoguerra perché è stata bombardata però ecco sono quattro schiavi incatenati no? e lei guardando quegli schiavi rivede no? la violenza fatta no? anche al suo corpo quindi è tutto un gioco di rimandi però a me interessava come questo personaggio si ricostruiva vorrei poi chiederti appunto ti avrei proprio chiesto della fontana senza specificare nel caso eventualmente non rischia di spoilerare troppo no ma quello si può dire c'è la fontana di fontana poi anche la fontana di Marino e poi anche come si collega diciamo nel contesto di quello che poi abbiamo visto lo scorso anno con Black Lives Matter con ecco la fontana di Marino che parlava di Giaba qui ci sono foto di Rino Bianchi che trovate anche nel rete del libro cioè io lavoro sempre con Rino perché insomma siamo ormai un dialogo intenso con la fotografia perché insomma merita scusa l'interruzione no 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 assolutamente che Rino aveva fatto anche Roma Negata sì Roma Negata infatti sbaglio no volevo appunto chiederti appunto come appunto anche la fontana di Marino nella centralità narrativa si ricollega poi anche a posteriore perché chiaramente sono cose che sono eventi che hanno seguito la pubblicazione della linea del colore con quello che abbiamo visto l'anno scorso anno del protesto di Black Lives Matter e la problematicità delle statue del colonialismo della brutalità della brutalità schiavistica o appunto come abbiamo visto anche qui nel Regno Unito specifico a Bristol l'abbattimento della statua di Coston che poi ha guidato qui nel Regno Unito una serie di rimozioni di statue di quella problematicità però senza quell'abbattimento forse non avremmo visto una discussione simile che continuava da anni quindi appunto le statue tu ne hai scritto anche io penso che ci siano differenti approcci differenti anche statue no? differenti anche modi allora io ci ho riflettuto da anni dal 2014 anche prima però il 2014 quando è uscito Roma Negata e in qualche modo ci rifletto anche qui cioè infatti quando è successo tutto quello del pandemonio intorno alle statue ho pensato ecco perché nel libro effettivamente troverete tante tracce tante tracce di schiavitù tante tracce di no di questo topos dello schiavo incatenato però ecco io ho sempre un po' riflettuto sulle tracce che ci lasciano le statue effettivamente statue targhe pannelli cioè di tutto di più e dipende cioè a volte vanno rimosse come per esempio è successo alla statue del ginecologo Sibs a Central Park questo era un ginecologo considerato padre della ginecologia e lui che ha inventato lo speculum e lo dico alle donne lo speculum è così freddo perché lui faceva comunque questi esperimenti sulle donne sulle schiave su rischiave nere e molti sono morte insomma faceva esperimenti per su ginecologici e quindi hanno fatto molte performance davanti alla statua di donne con pigiama macchiate di rosso macchiate di fucsia e la statua effettivamente è stata rimossa e lì era giusto e secondo me ci sono anche le storie delle statue che si portano dietro però io poi ho riflettuto un po' sulle tracce invece nostre qui del fascismo e ci sono alcune tracce che non andrebbero mai rimosse perché ci ricordano che è esistito il colonialismo e soprattutto possiamo rilavorarle penso per esempio vi faccio un esempio pratico nel palazzo Roma Largo Ascianghi l'ex sede della gioventù italiana dell'Hittorio dentro c'è una mappa dell'Africa enorme con una mappa vuota segnata solo l'Etiopia come possedimento coloniale nemmeno gli altri possedimenti sono segnati solo l'Etiopia perché in realtà gli altri possedimenti sono sempre stati considerati di scarto per arrivare all'Etiopia in qualche modo dagli italiani e quindi c'è solo l'Etiopia segnata e le battaglie vinte dagli italiani Adua Macallè eccetera eccetera è una cosa raccapricciante cioè enorme raccapricciante cosa ci facciamo abbattiamo no perché è utile quel palazzo è stato poi ristaurato dalla regione possiamo proiettarci cose possiamo portarci scolaresche possiamo fare del performance davanti a quel panel perché c'è c'è lo spazio quindi tecnicamente quello è un lavoro da fare un lavoro di risinificazione io penso che una strada molto importante sia la risinificazione delle tracce scomode e poi chiaro ci sono delle cose che sinceramente vanno tolte di mezzo io ce n'ho una la prima segnata infatti tutti hanno parlato molto della strada di Montanelli in Italia a causa della sposa bambina poi io non la chiamerei sposa bambina perché era una bambina costretta a un concubinaggio forzato tra parentesi questa la mette tra parentesi non sappiamo se è veramente esistito se è stato parto della testa di Montanelli ma anche se è stato parto della testa di Montanelli guarda è altrettanto preoccupante secondo me anzi ci dice un immaginario proprio no è tossico no ce lo rimanda addosso però tutti hanno parlato di quella statua e nessuno ha parlato di Affile cioè che io ogni volta penso di Affile che è stato è una io non lo considero nemmeno un monumento è una cosa che hanno costruito nel 2012 per onorare Rodolfo Graziani è fatto apposta c'è tutto un sacrario lì e anche un luogo per fare le parate tra parentesi è brutto proprio il dep tour per il paesaggio è fatto come un cesso anche proprio quadrato e l'acqua c'è il cesso che è quadrato quindi è veramente un obbrobbio a livello estetico e a livello di contenuti cioè non possiamo dedicare noi in Italia oggi anni 2000 e 20 passa e allora era 12 però insomma sta ancora lì e un monumento a un criminale di guerra è come se la Germania domani mattina facesse un monumento a Himmler o a Hitler direttamente non è possibile quindi è chiaro qualcosa va eliminato e qualcosa va tenuto quello va eliminato sono d'accordissimo entro questa cosa di monumenti alcuni vanno eliminati ma secondo me è giusto tenerli alcuni e portare le scuole perché il problema dell'Italia secondo me ma dell'Italia non lo so forse il problema dell'uomo è la memoria noi non abbiamo memoria per cui se ci tolgono anche le immagini queste cose proprio scompaiono invece devono rimanere lì e gli insegnanti perché a me sembra che forse diciamo in questo mondo così forse la scuola italiana è quella che forse è più attenta a questo tipo di tematiche anche perché probabilmente è quella che ha più a che fare perché ci sono le classi dove ci sono i ragazzi che arrivano un po' da tutte le parti per cui bisognerebbe che la gente andasse a vederle chi può andare a vederle davanti se no fotografiamole mandiamole in maniera che questa memoria rimanga e la si crei perché veramente c'è spesso volentieri il colonialismo in Italia italiani brava gente no? come si diceva è una cosa che posso dire solo una cosa poi mi taccio devo dire che però è un po' migliorata la situazione cioè rispetto a quando ero piccola io a scuola non c'era niente manco si segnavano non si sapeva niente e devo dire che ultimamente ci sono stati molti libri penso per esempio a Sangue Giusto di Francesca Melandri oltre al mio Adua o Gabriella Germandi Regina di Fiore di Perle Wuming ti mira ci sono stati parecchi libri ma anche parecchio movimento cioè quando è successo quel fatto della pasta e col nome Abissine c'è stato veramente un'elevata di scudi contro dieci anni fa e non sono sicura che ci sarebbe stato un'elevata di scudi forse nessuno se ne sarebbe accorto invece qualcosa si è mosso in Italia penso a tutti i ricercatori le ricercatrici che stanno facendo un lavoro c'è la rimozione che c'è perché c'è in ambito diciamo mainstream soprattutto però sta diventando un po' meno rimozione in alcuni ambiti hanno veramente perpetto a momenti femministi come non una di meno che hanno veramente fatto delle azioni decoloniali comunque non è tutto veramente brutto come poteva essere un tempo è chiaro che dobbiamo fare molto di più no ma io credo che la scuola adesso abbia un ruolo una filiale ed è come al solito secondo me tante volte il paese reale è molto più avanti rispetto a tante altre cose che rimangono ad arrancare l'istituzione così il paese reale è fondamentale la scuola è il paese reale perché è questo io a questo proposito Ijabba volevo farti un'ultima domanda e poi magari un'ultimissima che volevo rivolgere invece a tutti e due tu insomma avete parlato del fatto che il colonialismo in Italia si tende a confinarlo al periodo fascista e non si guarda invece al colonialismo che c'è stato prima e di cui quello fascista è un po' un'eredità quindi volevo chiederti tu pensi che questo sia un meccanismo consapevole come a dire come a relegare quella parentesi del colonialismo a un periodo diciamo poco felice abbastanza inglorioso a livello di memoria della nostra storia il colonialismo secondo me poi ho sorpassato il fascismo è durato anche dopo questa è una cosa che la gente non ci pensa ma è durata anche dopo perché uno deve pensare quando De Gasperi era seduto al tavolo di pace tra gli sconfitti perché l'Italia era tra gli sconfitti una delle cose che ha rivendicato è vorremmo tenerci le colonie tenetevi l'Etiopia è vero la presa Mussolini ma le altre sono colonie liberali questa cosa noi non la immaginiamo ma l'ha detta del padre della patria in qualche modo De Gasperi perché la mentalità coloniale effettivamente era trasversale ai momenti politici infatti tra 1950 e 1960 l'Italia torna in Africa torna in Somalia con l'amministrazione judicial italiana ed è una sorta di colonialismo ma ritradotto in dobbiamo portare la democrazia dobbiamo insegnare la democrazia questa frase suona perché l'abbiamo poi sentita nel corso del tempo tante volte si fanno le guerre per portare la democrazia quindi io temo che la struttura coloniale non soltanto italiana ma in generale la struttura coloniale del mondo è rimasta lì cioè alcuni nodi coloniali sono rimasti lì cioè Francia Gran Bretagna si sono aggiunti nuovi anche diciamo paesi colonizzatori quindi è qualcosa che io studio in qualche modo e lavoro sul coloniale non perché è una cosa del passato ma perché è una cosa del presente quello che preoccupa tecnicamente poi è chiaro noi come paese come Italia come sistema secondo me è utile che lavoriamo molto anche su quello che è stato precedente al fascismo perché in qualche modo è stata anche una preparazione di quello che poi effettivamente Mussolini ha fatto in Etiopia l'Etiopia non si può capire se non si capisce cosa è avvenuto per esempio nel 1911 50 anni dopo l'unità d'Italia in Libia nella guerra italo-turca no? cioè perché comunque i meccanismi di propaganda erano più o meno gli stessi le canzoni non c'era faccetta nera ma c'era Tripoli bel suol d'amore che era una canzone imperialista uguale a faccetta nera quindi tecnicamente la storia insomma va un po' scavata e dobbiamo scavare tutti noi secondo me un po' un po' di più e devo dire che la letteratura può fare un consiglio visto che siamo nella libreria ne ha ne ha parlato io consiglio sempre il libro di Flaiano Tempo di Uccidere perché è veramente un capolavoro e sta per uscire esattamente non so quando ma ve lo dirò un altro libro ambientato proprio nella nella Somalia dell'amministrazione fiduciaria uscito però negli anni 60 che poi è stato dimenticato che si intitola La settimana nera e ve lo dico perché ho fatto la prefazione quindi vedrete insomma questo libro che un po' assomiglia anche a quello di Flaiano devo dire che e l'autore non l'ho detto Enrico Emanuelli che era un giornalista che si era occupato molto di Russia e di Cina e quindi in un certo senso rileggere i testi anche del passato che hanno affrontato questo colonialismo non adesso ma molto prima insomma è interessante secondo me ci fanno comunque capire delle cose grazie Izzabba non so se volevi fare una lettura finale prima di chiudere no la lettura finale l'avevo no ok allora approfitto per fare una domanda diciamo doppia tu in realtà forse un po' ci hai già risposto però siccome avete due punti di osservazione diversi insomma dall'Italia e appunto da da Londra volevo chiedere a entrambi secondo voi nei rispettivi paesi ma anche in generale qual è l'eredità di Black Lives Matter ok comincio io così tu dici le cose allora io devo dire che sembra che non si sia mosso niente in Italia con Black Lives Matter invece si è mosso molto cioè a me ha colpito molto la manifestazione del popolo quando ho visto tantissimi giovani tantissimi giovani veramente forte come manifestazione è chiaro che il mainstream non ha percepito nulla noi è caduto un altro governo che io dico sempre un altro annennesimo governo che non ha fatto la legge e la riforma sulla cittadinanza perché tutte quelle persone alcune hanno problemi di cittadinanza cioè il loro paese non li riconosce il loro paese l'Italia non li riconosce come italiani quindi noi cambiamo governi ma la riforma sulla cittadinanza non la fa nessuno quindi è una cosa veramente grave e io penso che a livello culturale io vedo molti giovani scrivere io ho curato un'antologia che si intitola Future con giovani donne afrodiscendenti italiane insomma vedo alcune cose muoversi chiaro molto più lentamente che in Gran Bretagna cioè non c'è la rivoluzione copernicana che sta avvenendo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna cioè lì si sono messi in discussione delle strutture anche banalmente nei casi editrici no? qui ancora poco però piccoli movimenti piccoli passi li vedo non nel mainstream nella società civile e speriamo un po' che arrivi anche al mainstream noi dovremmo arrivare alla politica però insomma la politica abbiamo visto in questi giorni come messa come ridotta quindi aspettiamo di vedere quali governi avremo intanto andiamo avanti per conto nostro però anche sì la riforma la devono fare prima o poi perché secondo me questa cosa la dico e mi taccio non è diventato più un problema solo nostro cioè il problema della cittadinanza del singolo che non riesce ad avere il passaporto italiano ma è diventato una vergogna per l'Italia infatti io la cosa che dico è che la prossima volta a manifestare sotto Montecitori ci devono andare gli italiani dicendo il nostro paese non può essere ridotto così che non dà la cittadinanza ai suoi figli che sono nati o cresciuti qua cioè gli italiani di generazioni devono andare a manifestare con i fratelli e le sorelle italiani diciamo con background di altri paesi insomma io mi allineo totalmente a quello che ha detto Giado su questo punto assolutamente sempre nella speranza che questo su questo fronte le cose cambino che ci sia una spinta dal basso perché purtroppo come sottolineavi Giaba al momento l'appetito politico continua a non essere lì per nulla quindi è qualcosa che dovrà essere sospinta dalla società per quello che riguarda invece Black Lives Matter nel Regno Unito sicuramente ha avuto penso che sia non sia molto equilibrato comparare i due paesi perché hanno comunque una storia molto diversa e c'è comunque una composizione anche sociale e diversa e poi ricollegandomi a quello che dicevi Giaba c'è il punto centrale della cittadinanza ci sono come non solo afro italiani ma anche italiani variati altre discendenze sino italiani che purtroppo non hanno la cittadinanza e non sono visti o calcolati quindi e con tutte le problematiche del caso ma Black Lives Matter nel Regno Unito è riuscita poi a costituirsi anche come Community Benefit Society quindi ha cominciato poi anche a fare donazioni per vari progetti a varie entità la notizia di ieri Black Lives Matter è stata nominata per diciamo per il premio Nobel per la pace tra i candidati quindi questi sono segnali che c'è un cambiamento nell'area chiaramente come chiaramente non le battaglie da combattere sono ancora numerose e soprattutto c'è la questione di non c'è anche una questione di la centralità di Black Lives Matter perché bisogna dirlo perché bisogna dire che le vite ne recontano quella la questione centrale e l'idea è quella anche poi di arrivare idealmente a un punto in cui non sia più necessario dirlo questo purtroppo sfugge tanto e nel contesto del Regno Unito poi senza fare troppe dinamiche collegamenti su Brexit e meno c'è comunque una grande concentrazione di culture wars che vanno al di là delle questioni diciamo di razziali da un certo punto di vista perché abbiamo avuto la ministra per le preuguaglianze Femi Badenot di discendenza nigeriana che ha definito che si è unito un po' al coro rappresentando Black Lives Matter come un'organizzazione marxista un'organizzazione che porta avanti il vittimismo dei neri quindi c'è molto da lavorare sono due contesti diversi ma i segnali sono positivi benissimo allora grazie se non c'è tu leggo io per chiudere una cosina va bene ok grazie leggi tu se vuoi leggere tu no 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 leggi mi piace ascoltare allora il primo febbraio 1887 quando Roma seppe dalla bocca di De Peretis quello che era successo nella conca di Urali una statunitense di nome la Fano Brown aveva appena imboccato via del corso ogni mattina la Fano Brown andava al cimitero a cattolico quello davanti alla piramide cestia a omaggiare il poeta era sua abitudine portargli delle rose e delle violette era felice che il poeta non fosse circondato da cipressi funesti o da cespugli felice che potesse godere anche da morto della luce di Roma così calda e penetrante se ne stava lì davanti alla tomba per 15 o 20 minuti in silenzio a guardare l'epitafio che il poeta aveva scritto di sua mano scorreva con gli occhi quelle dolci parole antiche e ogni volta veniva presa da uno stupore simile alla fratellanza qui già c'è uno il cui nome è stato scritto sull'acqua anche il nome di la Fano anni prima era stato scritto sull'acqua ma le sue erano acque torbide e ruenti pure il poeta era stato un ribello a modo suo un incompreso forse per questo era simpatico alla Fano che ogni mattina si chinava per togliere le erbacce e cacciare i vermi da quella tomba che le era cara quanto la sua stessa anima e lì sognava la Fano sognava di essere una farfalla e librarsi nel cielo libera anche se solo per un momento fugace Kits meraviglioso grazie 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 ragazzi di questa bellissima serata su cui c'è tanto da pensare con quel pezzo su Kits insomma ti ringrazio della lettura no perché mi è piaciuta l'idea perché ci sono quei momenti in cui trovi quello spazio in cui ti senti per un momento libero questo proprio lo rappresenta proprio è bellissimo grazie a voi grazie della bellissima serata io spero che ci rivedremo di persona di presente speriamo ragazzi che anche il film ritorni alla svelta perché ci manca da morire tantissimo perché era un'occasione bellissima di incontro di riflessione di pensiero e comunque grazie a voi per i pensieri che ci avete regalato che sono fondamentali grazie grazie mille ragazzi grazie grazie tante ciao 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 alla prossima Ornella allora bellissima serata grazie a tutti a tutti a tutti che ci ha ascoltato a tutti quelli che ci hanno ascoltato che hanno ascoltato i nostri ospiti bellissima serata devo dire molto molto interessante e piena di di spunti e allora vi ricordiamo appunto che i libri di java la linea del colore e adua li trovate sul sito italianbookshop.co punto uk e li ho messi anche nei commenti quindi se li trovate direttamente da là potete cliccare e niente li ordinate da là oppure li spediamo a casa ecco quello che volete il libro eccolo qui è un gran libro è un gran libro veramente è un gran libro da leggere poi vi ricordiamo il prossimo appuntamento che è l'otto di dicembre di febbraio l'otto di febbraio abbiamo Nicola Laggioia in conversazione con Paolo Nelli Nicola Laggioia con un altro di quei libri belli importanti importanti diciamo così importanti niente vi salutiamo grazie Londra dove piove continuamente giusto per renderci una voglia di uscire zero già ormai stiamo stiamo io tra un po' non riesco più divento parte della poltrona aspetta che c'è un commento di Renata no aspetta Stefania ciao Stefania sono troppo piccoli io non li leggo e ciao Renata eccola ciao Renata ti mandiamo un bacione io non riesco a leggerlo ho scritto troppo piccolo c'è ancora molto su cui riflettere sull'argomento ma come sempre avete offerto ottimi spunti ciao Renatina e niente va bene ragazzi grazie a tutti e ci vediamo presto e ci vediamo prossimo ok ricordati comprate i libri da noi non comprateli su Amazon che vi si incricca il dito va bene ciao Ornella ciao a tutti buona serata ciao 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 ciao